La palestra a cielo aperto La zona è stata allestita con sei nuovi attrezzi situati nei pressi della palatenda. Il sindaco Luca Baracco ha dichiarato che l'obiettivo è quello di rendere più fruibile alla popolazione gli spazi della città. Recentemente era stata inaugurata l'area Cani, mentre tra qualche settimana, in Piazza delle Migrante, verrà consegnato il nuovo parco giochi ai bambini di Caselle. All'inaugurazione hanno presenziato gli argentini di Morteros che hanno salutato brevemente in Piemontese. Quindi l'assessore allo sport, Angela Grimaldi, ha illustrato le dimostrazioni di tre gruppi sportivi studiate per animare la giornata. Infine si è tenuto il taglio del nastro a cui hanno assistito cittadini, associazioni sportive e il vice sindaco Paolo Gremo, l'assessore Giovanni Isabella e il consigliere Stefano Sarniese. Anche se non è un progetto, è un progetto fisico, aiuta a me, mani, 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 mani. A me, mani, 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 mani. Grazie a tutti.